Bene, facciamo un po' di yoga, facciamo qualche movimento insieme a qualche affermazione che ci insegna un grande maestro che si chiama Swami Kriyananda. Iniziamo a camminare sul posto, rigorosamente, subi nelle ginocchia e diciamo sono sveglio, sono pronto, sono sveglio, sono pronto. Sono sveglio, sono pronto. Ok, ci fermiamo, poi le braccia in avanti. Sono positivo, sono energico, sono entusiasta. Sono positivo, sono energico, sono entusiasta. Sono positivo, sono energico, sono entusiasta. Ok, sempre con i pugnetti, leggere i pugnetti. Ci picchiamo poco poco sul petto, non ci facciamo male. Sono forte, sono sano. Sono forte, sono sano. Sono forte, sono sano. Poi ci accarezziamo su tutto il corpo. Svegliatevi cellule mie. Svegliatevi cellule mie. Svegliatevi cellule mie. Bene, ancora una volta i pugni. Adesso sulla testa. Piano piano. Si contenta, si saggia e fortemente mia. Si contenta, si saggia e fortemente mia. E poi facciamo un bel massaggio sulla testa. E diciamo pensieri positivi. Venite da me. Pensieri positivi. Venite da me. pensieri positivi. Venite da me. Bene, lascio cadere giù le braccia. Ok. Facciamo la posizione della montagna. Fermi, immobili. Come una montagna. Col corpo disegno una montagna. Mi sento forte e importante come una montagna. Sono forte e importante come una montagna. Facciamo un bel sorriso come il sole. illuminiamo tutto. Sono il sole, le braccia, le mani, le dita. Li apriamo come dei raggi. e illuminiamo tutto quanto che è intorno a noi. Bene. Disegniamo poi anche un bel triangolo col corpo. Apriamo un po' di più le gambe. Ok. Poi in alto il braccio. Uno, non importa quale, tiro verso l'altra parte. Non troppo, eh. Non deve far troppo male qua un po'. Dobbiamo sentir tirare. Tiro, tiro. Faccio un bel triangolo. Ok. E poi anche l'altra parte. Su. Allungo. Tiro. Facciamo un bel triangolo. Tiro. Bene. Bene. Ok. E poi facciamo l'albero. Metto il peso su una gamba. Non importa quale. Metto così il bacino. L'altra gamba e l'altro piede viene su. Lo metto all'interno della coscia. Guardo. Fisso un punto perché è più facile mantenere l'equilibrio. Le braccia diventano i rami. Posso andare in alto. Apro le mani. Posso anche aprirli. Come è più facile per me. Però cerchiamo di rimanere fermi su una gamba. Ok. E poi facciamo anche l'altra parte. Su. Fissiamo un punto. Non cado. Ok. E le braccia diventano dei rami. Benissimo. Ok. E poi quando entra l'aria nel naso vado su 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 su. E quando esce scendo. Poi quando entro apro le braccia lungo lungo lungo. Quando esce scendo. Ancora una volta. quando entra su 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 su. E quando esce scendo. Bene. Namaskar. Ciao.